A Mondello un'esercitazione della Polizia di Stato che ha visto collaborare il nucleo sommozzatori e il personale degli acquascooter dell'Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico con i colleghi del quarto reparto volo. L'esercitazione ha voluto simulare svariati moduli di salvataggio di bagnanti in difficoltà o di naufraghi attraverso protocolli di sicurezza che sviluppano un'importante sinergia tra poliziotti perché una sicurezza che giunge sia da terra che da mare offre sicuramente più garanzie di salvezza. Dalle 15 alle 17 gli elicotteri della Polizia di Stato hanno effettuato missioni di salvataggio nella Baia di Mondello attraverso il rilascio in acqua in volo stazionario a circa 2 metri di altezza di personale sommozzatore e successivo recupero con verricello in singola e doppia braga. Durante le operazioni sono stati anche utilizzati dei fumogeni arancioni necessari per determinare la direzione del vento. Le esercitazioni sono uno degli step del programma di addestramento per il conseguimento dell'abilitazione alle attività operazioni speciali polizia per il personale aeronavigante del quarto reparto volo.